Oggi parliamo di WhatsApp, oggi parliamo di una novità che è stata introdotta nell'ultima versione beta di WhatsApp per Android una novità che quindi attualmente non avete ancora disponibile nei vostri dispositivi se utilizzate la versione ufficiale di WhatsApp, quella che si scarica dal Play Store una novità che in effetti risulterà molto comoda a chi non riesce a capire perché lo spazio disponibile nel proprio smartphone si riduca così sostanzialmente è che proprio grazie a questa novità riuscirà almeno ad avere chiara la situazione di WhatsApp Messenger vi farò vedere il nuovo sistema di gestione dello spazio di WhatsApp grazie al quale potrete capire nello specifico quali sono le conversazioni che occupano più spazio nel vostro dispositivo e in effetti potrete anche risolvere il problema eliminando gli elementi che occupano più spazio io sono Doro Caliendo, benvenuti in un nuovo video di TechFanpage In questa nuova versione di WhatsApp Messenger, una versione che come avevo anticipato non è ancora disponibile nel Play Store sono state introdotte diverse novità ma quella che ci interessa oggi è accessibile tramite le impostazioni dell'applicazione una volta entrati nelle impostazioni tutto quello che dovrete fare sarà selezionare la voce Utilizzo, Dati e Archivio ed entrerete nella sezione nella quale potrete per esempio attivare o disattivare il download automatico sotto rete mobile sotto rete wifi o quando si è in roaming ma selezionando la voce Utilizzo Archivio entrerete proprio in questa nuova sezione nella quale potrete vedere un elenco di tutte le chat che avete in WhatsApp e accanto al nome di ogni contatto vedrete lo spazio occupato singolarmente per ogni conversazione selezionando ogni conversazione entrerete nel dettaglio potrete vedere quanti messaggi di testo vi siete scambiati quanti contatti e quanti condivisioni della posizione avete fatto e in basso vedrete proprio lo spazio occupato da immagini, GIF, messaggi video e così via per liberare lo spazio tutto quello che dovete fare sarà selezionare la voce Gestisci messaggi posta in basso e potrete selezionare singolarmente gli elementi da eliminare in modo tale da liberare spazio sul disco non sappiamo ancora quando questa versione sarà rilasciata ufficialmente nel Play Store attualmente si tratta di una beta il mio consiglio è di non installarla perché in quanto beta soffre di diversi bug ma sono convinto che l'attesa non sarà estremamente lunga perché gli sviluppatori di Whatsapp a brevissimo rilasceranno l'aggiornamento per tutti gli utenti io sono Dario Caliendo all'appuntamento al prossimo video di TechFanPage